Ciao a tutti ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Sofia e oggi giocherò di nuovo la Free Fire per la terza volta con Michael Meloni Come potete vedere il gioco è stato aggiornato e hanno aggiunto anche un nuovo personaggio Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con il video Grazie a tutti Grazie a tutti Iscriviti al canale e attiva le notifiche